Un po' di ironia su queste critiche, lui è convinto che l'Olanda possa arrivare in fondo l'Olanda che adesso attacca Depay Ha segnato l'Olanda, ha segnato l'Olanda col primo gol di Memphis Depay Da destra il cross, il rasoterra a battere Turner Decimo minuto e cambia il punteggio perché l'Olanda è in vantaggio per 1-0 sugli Stati Uniti Sembrava disegnata questa azione, forse un po' troppo a guardare la difesa degli Stati Uniti Però lo schema perfetto all'azione con Dumfries che questa volta si è liberato bene E' stato contestato agli esterni dell'Olanda di non essere andati troppe volte alla cross durante le partite del girone Beh questo è una cross perfetta, è un appoggio delizioso di Dumfries all'indietro per Depay E' liberato solissimo, un rigore in movimento, rasoterra e Turner ha battuto Olanda 1, Stati Uniti 0 Ecco, semplicissimo secondo me Attenzione all'Olanda rete! Con l'inserimento di Blint, sempre dalla stessa parte, sbuca dal nulla Conclusione rasoterra, battuto Turner di nuovo Olanda 2, Stati Uniti 0 Non sarà bella, ma come gioca, gioca in modo perfetto questa Olanda Che raddoppia alla fine del primo tempo E abbraccio generale di tutti quelli in maglia arancione davanti alla loro panchina Anche con le riserve Colpo duro, finisce il primo tempo da un esterno all'altro Dumfries, secondo assist, Blint, raddoppio dell'Olanda Saluta Blint, adesso va ad abbracciare Noppert e il portiere Gli Stati Uniti che ne approfittano e segnano Cross di Pulisic E poi il pallone che finisce in rete Una carambola Lì davanti a Noppert Con il pallone che si impenna e scavalca Il portiere dell'Olanda Troppe licenze estetiche Retropassaggio Un colpo di tacco Il Depay Tutto abbondantemente inutile Jedrin che recupera il pallone Pulisic che lo gira in mezzo Wright con un colpo involontario dello Scorpione Cadendo con l'attacco Il pallone che si alza Scavalca Noppert Dumfries questa volta Prova a intervenire ma non ci riesce E gli Stati Uniti riaprono la partita Profondità a Berwin con il petto ancora Depay Con un controllo acrobatico che questa volta riesce all'indietro Frenkie de Jong Poi Blind a cercare Depay I limiti dell'area di rigore Prova ad andare in slalom La difesa degli Stati Uniti Comunque schierata De Jong di prima Per Blind Spazio per il cross Un secondo palo Dumfries Rete E si meritava il gol Il giocatore dell'Inter Ancora una volta Ma questo Cambia il copione Da un esterno all'altro Da sinistra a destra Dumfries si coordina Mezza girata acrobatica Olanda 3 Stati Uniti 1 e 36esimo Gol meritato Per la partita che ha fatto Denzel Dumfries Forse migliore dell'Olanda E anche migliore in campo E va in avanti Colpisce di testa Blocca Turner E finisce qui la partita Ai quarti di finale Va l'Olanda 3 a 1 sugli Stati Uniti Ricordo rapidamente La successione delle reti Per l'Olanda Nella primo tempo Al decimo De Pai Al quarantacinquesimo Flint Nella ripresa Il 2 a 1 per gli Stati Uniti Di Wright Prima Del definitivo gol Di Dumfries E la gol Del 3 a 1 Dumfries Assist Per i primi due gol Olanda 3 a 1 sugli Stati Uniti Ai quarti Di finale Contro la vincente Di Australia Argentina Questa sera Grazie a Federico Foroni Per l'assist